Il presidente dell'Avrentis ha detto non pago più per la concessione del Sampai. Io vorrei cambiare un pochino registro in questa atmosfera natalizia, in una città piena di turisti come non si è mai visto nella storia della nostra città, un Napoli che ha fatto delle bellissime vittorie e che si sta recuperando molto in campionato e che ci aspetta il Real Madrid, dal 19 dicembre io farei parlare agli operai.